19 secondi. È il tempo che ha impiegato il palazzo di Vialegiotto a venire giù come una fisarmonica e a uccidere 67 persone. Dalle 3 e 12 di quell'11 novembre del 1999 sono trascorsi 18 anni, anni caratterizzati da dolore, polemiche e anche da vicende giudiziarie. La perizia dei fratelli Amedeo e Vita Antonio Vitone, incaricati dalla procura di Foggia per capire le cause del crollo del civico 120 di Vialegiotto, stabilì che quel palazzo era già nato morto, per i materiali utilizzati per costruirlo giudicati scadenti e per gli errati calcoli statici. Nell'inchiesta erano indagate con l'accusa di omicidio colposo plurimo, crollo di edificio e violazione delle leggi edilizie, quattro persone, tutte decedute. Il costruttore Antonio Delicarri, morto anche lui nel crollo, il progettista Mario Inglese, il collaudatore e l'ingegnere che per conto della prefettura di Foggia verificò nel 1971 la consistenza del calcestruzzo è impiegato per edificare gli stabili di Vialegiotto, il civico 131 e il 120. Ma dopo 18 anni Foggia non ha ancora una verità giudiziaria che abbia reso giustizia. Dopo 18 anni è rimasto solo quello che provammo quella notte, dolore, solo dolore.